Comunque se volete i tarocchi iNube che vedrete sono sul Federick Store sezione iNube Store e per chi volesse invece questo con logo iNube link affiliato di Amazon dei iNube questo l'ho fatto vedere perché è nel prossimo video quindi ciao Buonasera a tutti Spero che voi vi ricordate questo video quello dove abbiamo usato i tarocchi iNube mi si è bloccato il sito dei iNube abbiamo usato i tarocchi iNube per vedere il futuro e lo rifaremo ovviamente c'è anche i tarocchi dei Jojo le carte delle divinità e le carte normali K questo Scud è la scimmia allora adesso le misceliamo e rifacciamo di nuovo il video fatto ed essendo che non ho una seconda cam li devo arrangiare come vedete ho messo i tarocchi che adesso li girerò a seconda di quello che io voglio fare questa la mandiamo via prendiamo questa la giriamo provo a mettere tutte in un'inquadratura ok così dovrebbe andare bene adesso visto che non ho una cam mi arrangio vi faccio vedere la carta direttamente allora la prima carta è il passato ed è Dario Moccio al contrario adesso vediamo cosa significa Dario Moccio al contrario ovvero determinate ossioni o parole profeite hanno scallerato la collera di uno di più individui qualcuno ora ce l'ha con voi probabilmente le relative conseguenze sono scelate dietro l'angolo assenso assenso col mio passato il presente che cazzo è Olaf al contrario si Olaf al contrario controlliamo il 23 le conseguenze di loro commessi nel passato che ormai si pensano fartene solo adesso tornano a buzzare la porta si si adesso il futuro cazzo è Camper Camper al contrario perché tutto al contrario la carta è considerata da come sonoro ah la carta è considerata come sonoro avvertimento a regolare la propria tendenza a voler monitorare la situazione di individui di qualsiasi approccio a far straccinare dal mania di controllo talvolta fino a stare in linea delle relazioni di favore l'abitazione non siamo sempre in stress siamo trattati una notevole funzione in cui allora tutto il controllo ci riuscisce a mantenere occhio quindi alla salute via contro relax diciamo è decisamente che tipo segnale infatti tutto a merda va la volo la volo è uscito il bertra non mi piace la carta è un invito a scendere al piedistallo non prende il sistema sul serio sta creando il problema nonostante passano a sembrare duri ma io sono autocritico un invito a scendere al piedistallo interessante invece l'amore è Leo Charmander perfetto Leo Charmander 27 la carta sottolinea imposta di tutte quelle novità fondamentali per la formazione di un individuo malgrado esse forno negli risultati suggerisce un migliore di leggerezza senza prendersi troppo sul serio invita a focalizzare un tonto ok quindi nel passato c'è Dario Boccia al contrario quindi ha fatto decisioni brutte nel passato nel presente c'è Colaf al contrario quindi si stanno ripercutendo nel presente e nel futuro c'è Camper che dice di smetterla di fare le cose male sempre Camper al contrario nel lavoro c'è Berta che dice scendere al piedistallo essere autocritici nell'amore c'è la gavetta che dice che mi devo sforzare ah non suggerisce vivere la vita con l'angerezza senza prendersi sul serio ma focalizzarsi su ciò che c'è in futuro e non sul presente adesso l'ho capito aspettare bellissimo quindi il video si conclude qua e niente grazie grazie Grazie.